segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te o così chi si occupa di giornale di informazione un tempo c'era sempre l'ombra di d'alema qualsiasi cosa di misterioso capitasse in politica c'è l'ombra di d'alema anche se d'alema non è in parlamento adesso c'è l'ombra di renzi qualsiasi cosa di inspiegabile accade in politica c'è c'è renzi però non basta non basta non penso che sia stato renzi o il sospetto che qualcuno nel pd potrebbe averlo fatto ragione per cui oggi il pd vuole contarsi o il sospetto ma un sospetto basato sul non sul bar ma sulla logica politica che ci possa essere stato qualcuno del movimento cinque stelle ad andare avanti in quella direzione comunque lo capiremo lo capiremo quando il senato la presenza del senato assegnerà alcuni ruoli importanti per esempio le vicepresidenze gli uffici di presidenza e altri ruoli che hanno un peso all'interno dell'equilibrio del senato se dovesse esserci una qualche sovra rappresentazione di qualche partito capiremo che forse uno scambio politico c'è stato una ricompensa invece se sarà equilibrata questa ricomposizione vorrà dire che giorgia meloni che però su questo possiamo essere penso tutti d'accordo che giorgia meloni sapeva che ci sarebbe stato il soccorso questo è evidente altrimenti non avrebbe messo in votazione la russa e quindi vedremo se diciamo una distribuzione equilibrata di queste cose vuol dire che effettivamente tutti e tre hanno avuto tutte e tre le forze politiche di opposizione hanno dato una mano però penso che abbia ragione claudio serasa che ci vorrà del tempo si dice l'assassino non sempre sul luogo del delitto quindi l'assegnazione delle vicepresidenze quello quello può essere un ritorno sul luogo del delitto sul luogo del delitto allora però ci sono molte questioni in realtà che originano dalla giornata di ieri dopo la pubblicità l'esaminiamo una una